Ok di nuovo Dokkan stiamo portando e oggi andiamo a prenderci, boh è così tanto per ricominciare a prendere le piede Penso che il prossimo video di Dokkan sarà lo showcase di Trunks, perché ancora me lo sono fatto quindi non posso portarlo Sarà, cioè oggi andiamo a farmare lui, perché ho visto che ci sarà Goku e Leveza per in battle, quindi mostruoso io ce l'ho comunque full ability, ce l'ho S10, non è tanto Quindi siccome servono specifici personaggi vorrei, cioè comincio a farmare adesso, comunque così mi trovo un pochettino avanti Cioè questo Freezer già ce l'ho, ce l'ho già S10, però non ce l'ho all'ability, quindi devo farmi 4 copia e portarmi quell'altro all'ability full Spero ci sia solamente questa fase perché è comunque il primo stage, quindi dovremmo essere un pochino più cauti in questo momento Vediamo, ok vabbè, ho shottato perché giustamente ha GL, no c'è un'altra fase, faccio attaccare lui perché ha una special molto più rapida rispetto a Brody Quindi finiamo prima e forse possiamo farci anche un'altra battaglia Oh, vedete cosa, oh mio dio, 1.700.000 Quindi carica, cioè, ok mamma mia, 3.000.000 Oh, ma sai che già abbiamo finito? Ma in che senso? Due cose, io pensavo tipo, ma in esse è molto di meno perché comunque ha diritto orribile Ok, guarda, due hanno andato, vabbè Quindi proviamo a farne un'altra, vediamo se riusciamo, comunque non abbiamo utilizzato il bonus Nel senso mi ha dato due copie, però non col bonus, cioè normalmente, quindi forse possiamo sperare essere fortunati anche nell'altro No, Brody con la prima fase, ok, non me l'ho mai accorto, me l'ho mai accorto adesso Ok, ha fatto 100.000 in più, grandioso Seconda fase, penso che Gohan faccia la special più lenta a me, cioè molto più lunga Però mai si conosce un abituato, penso che non sia troppo lunga comunque così Ok, 1.200, comunque la tech, me ne dai altri due? Ma, in che senso? Ma è così tanto semplice? Pensavo fosse più difficile, otto un po' Non mi lamento, non mi lamento assolutamente Ah, ok, ora dobbiamo fare questo Me li farmo, cioè provo a farmarmi e poi ci sentiamo di nuovo Diciamo che... Stavo freddo la partita, no? C'è il Kai che aumenta le statistiche a Goku Cioè Goku, questo etf, è quello di un nemico che è fisico Quindi volevo vedere che faceva A cosa? Una? Stai scherzando? Cioè io così non devo farmi altre otto partite Facciamo finta che idealmente l'ho fatto Poi non lo so, addio Che Grazie a tutti.